Per favore, non fatemi del male! Oh, che piagnona! Miss Circle, ti ho presa! Che succede? Oh, qualcuno è davvero tosto! Eh, Miss Delight? Raderemo al suolo te e le tue matite, è chiaro? Perché sei così crudele? Basta, per favore! Compasso! Da qua! No, risparmiami! Aghi, aiutami! Oh, mi piacerebbe! Punta! Non la testa! Ho paura! Fuoco! Oh, ce l'abbiamo fatta! Oh, no! Calma, piccoli perdenti! I miei capelli! Santo cielo, che succede? State divertendo, vero? Boom! Giù le mani! Aghi, sei davvero un bebè! Oh, e tu sei un duro, vero? Sei una besta! Sì, è difficile da gestire! Prendete questo! Ah, ci arrendiamo! E state lontano un miglio da loro! Wow! I ragazzi sono fantastici! Questa è per te! A chi appartiene l'ombra? Guarda un po'! Cosa? Oh, ehi tu! Batti cinque! Ho un'idea! Una lavagna per il restyling completo! Oh! Che ne dici? Wow! Creativo! Il trucco è il primo compito! Ma non so come farlo! Non preoccuparti, ho un'idea! Cosa stai tramando? Fidati della tua amica! Facciamolo! Scarica! Amica mia, troveremo qualcosa di decente! Oh, che schifo! Vediamo! C'è qualcosa di decente! Ora ci siamo! Wow! Non è poi così male! Guarda che cuori! Wow! Ti carico io ora! Non esiste! Conosco un altro modo! Creerò il mio stile! Secondo me, siamo da dieci e lode! Che il restyling abbia inizio! Pronti! Miss Circle, cosa ne pensiamo della versione 2.0? Wow! Sei davvero stupenda! Passiamo alle acconciature! Le mie matite possono sostituire i bigodini! Avrò i capelli dei miei sogni! Ho visto questo trucco su TikTok! Ci proverò! Non è facile! Forza, matita! Un'altra! Entra! Ora! Forza! The Light! Cosa cerchi di fare? Non volevo, scusa! Pensi che un asciugacapelli magico possa aiutare? Magia, eh? Lo provo su di me! Un po' di polvere di fata... E la dirigi verso di te! Ha funzionato! Sono lunghi! E perfetti! Sono senza parole! E da qua! Ci metto dentro tutto? Così la mia acconciatura spiccherà davvero! Non so se sia una buona idea! Calma! Sei sicura di volerlo fare? Sono pronta! E o no? Andiamo? Cosa? Ah! Il gadget è fantastico! Tesoro, per favore, calmati! No! Ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto per salvare Miss Circle! È un'emergenza! La bellezza è sacrificio! È necessario, ragazzi! Fateli meglio! Ce l'avete fatta! Siete fantastici! Grazie! No, no, no! Sono viva! Come stai? Ne ho passate tante! Posso? No! Non voglio morire! Rilassati! Ci penso io! Wow! Anch'io sono sbalordita! Che bello! Davvero! Ragazza, mi hai quasi uccisa! Il mio compasso è curioso! Ehi là! Oh! Non è qui! Oh, Mr. Delight! Pugno! Vorrei che fossimo una coppia! Innamorati pazzi, eh? Oh! Wow! Sono incinta! Cosa? Un bambino? Fantastico! Il bambino ha ottimi gusti musicali! Sono così felice! Guarda, tesoro! Il bambino ha i tuoi occhi! È un puro miracolo! Siamo i mariti più felici di sempre! Vi spostate! Siete nel mezzo! Oh, tesoro! Vorrei che fossimo insieme! Re e regina! Ehi, ciao! Sai, parteciperò al concorso! Bello, vero? Sì, lo è! Ha detto che lo è! Balliamo? Sì, sarebbe fantastico! Forte! Una prova! Ah, mi piacerebbe molto! Peccato, ma ho un allenamento di basket! Andiamo, amico! Non abbatterti! La mia vita è finita! Passiamo alla prossima parte! Gli abiti! Le cose vecchie non vanno bene! Facciamo una prova a Buar! Cosa? Non importa, ma stai lontana! Va bene così? Vediamo! C'è qualcosa di decente! Ecco! Wow! Mi piace davvero! Perfettamente in forma! Una mela carinissima! Perfetto! Tocca a te! Oh, gli occhiali sono un problema! Oh no! Ma come? Stupido rottame! Perché sei arrabbiata? Andrà tutto bene! Uh-huh! Bene, bene! Le mie matite non mi deludono mai! Farò uno schizzo del tuo nuovo vestito! Voila! Ed ecco la nuova Miss Circle! Che ne pensi? Wow! Mi piace! Allora provalo! Nuovo giorno, nuova me! Ehi, mondo! Ehi, Delight! Ciao! Dove sono i ragazzi? Mi attendo! Ma dove sono? Guarda! Forte! Abbiamo fatto vedere a quel nerd che è il capo! Oh, non loro! Ehi! Che succede? Ora che farete senza i ragazzi intorno? Oh, rovineranno i nostri abiti! Perché non se la prendono con qualcun altro? Ti avevamo avvertito, pulcioso! Possiamo ricordarvelo? Prendili a calci nel sedere! Il mio supereroe! Oh! Presa! Ti sei fatta male? Sto bene! Bene! Dov'è, Mister Delight? Oh, ecco di qui! Ai! Sono quasi caduta! Ehi, non cadere, ok? Ci vediamo! Quelle sì che sono mani! Stai bene? Oh, non guardare! Perché stai urlando? Guarda le mie mani! Le raddrizzo io? No, sono a posto! Non è spaventoso? Ho le pinzette! Ehi! Ok, fai piano! Ai! Però attenzione! Avremo finito prima che tu te ne accorga! Beh, non è stato spaventoso! Ciao! No, non così veloce! Che c'è? Guarda, la sezione premio! E dopo? Dovrebbe succedere qualcosa? Dovrebbe! Oh! Ecco il premio! Apri! Cos'è questo? Che schifo! È in giro da un po'? Lo so! Che schifo! Che vuoi fare? Guarda com'è divertente! A parte gli scherzi! Ehi! No! Provali! Non esiste! Uh, questi sono belli! Stanno meglio a me? Comunque sia! Il nero è letteralmente perfetto per me! Fantastico! Delight? Ma dove sei? Dove sei, mister Delight? Oh no! Trattienila! Ti troverò! Accidenti! Oh, mister Circle! Miss Delight! È un piacere vederti! Hai visto mister Delight? E chi è? È strano! Mister Delight! Eww! Il pericolo è scampato! Toc toc! Buon pomeriggio! Ciao, ciao! Ecco i test! Ti lascio lavorare! Non mi dispiace! Oh, preside! Iniziamo la lezione di geografia! Abbiamo un volontario? Io, io, posso! Cosa? Vogliono davvero rispondere! Non per molto! Cosa ci sarà questa volta? Cosa? Vi faccio vedere cosa si è inventata, Miss Delight! Lavoretti! Cosa? Questo è per te, roditore! Non mi piace! Sacco di pulci! Create degli accessori per me, subito! Ma come? Ecco una semplice istruzione! Cento punti in stampatello! Ah, mi fa male la gamba! Non vedo nulla! Asciugati le lacrime, coniglietto! Ci penso io! Mettiamo del filo nelle matite! E poi rifiniamo! Perline! Sì, le voglio! Altri fiori! E continuiamo così! Come va, Aggie? Orecchini, signorina! Adorabili! Ottimo lavoro! Vi distruggerò! Date il benvenuto al nostro nuovo studente! È Cutnap! Ehi, ragazzi! Evviva! Unisciti a noi! Oh, grazie! Che confusione! Non guardare! Che schifo! Vuoi essere popolare? È ovvio! Fattene una ragione! Non succederà mai! Non è vero! Essere una nerda è il tuo destino? Perché sei così cattiva? Nascondi la faccia o spaventi i bambini? Ora! Cutnap! Ignorala, è pazza! Siamo qui per te! Povero gattino! Un bel musetto non deve essere nascosto! Ecco qui! Wow! Bello! Benvenuta! Brutte feste! Iniziamo! È il momento della chimica! Sentiamo cosa dice... Spero di non essere io! Bene, bene, bene! E tu? No, no! Va bene! Dai, non è così spaventoso! Sono un po' nervoso! E rompelo! Eww! Molto meglio! Aspetta, aspetta! È così! Più veloce! Devo fare tutto da sola! Bolle! Ai! Ragazzi, va tutto bene! Lasciate l'aula! Subito! Ok, siamo tutti qui! Sigilliamo! Venite! Faremo lezione a casa mia! Ossigeno! Evviva! Una lezione nella natura! Faremo un corso di medicina! È davvero utile! Proprio così! Impareremo a fasciare le ferite! Peggy, prendi! Fai un po' di pratica! Mi piacerebbe! Vieni! Vieni qui! Ecco! Prepariamo Pommy! Ogni stomaco è fragile! Sono solo giocattoli, Dog Day! La mia creazione è viva! Che schifo! Oh, Oggy! È assurdo! Ho esagerato? Va bene, stiamo imparando! E ora ricuciamo! Ancora qualche punto? Fatto! Mamma gambe lunghe! Qual è il problema? Il suo cuore è a sinistra? Sono un po' ingarbugliato! Cosa? Ops! Aiutiamo, Oggy! Ci siamo quasi! Sei libero! Ah? Ahem! Ah, Mr. Delight! Questo è per te! I miei fiori preferiti! Come scusa? Oh, Mr. Delight! Vuoi sposarmi? Lo voglio! Finalmente! Sono così felice! Mr. Delight, vieni! Congratulazioni! Vi auguro un matrimonio felice! E tanti piccoli Delight! Voi avrete ciò che meritate! E tu? Hai chiuso! Sono un sacco di effe! Una bella effe! Non è possibile! Sei una nerd! Catnop! Sono una nerd! Ah, la vita è bella! Catnop, che ti ha fatto del male? Ha detto che sono una nerd! So come tirarti su! Non questa! Neanche questa! Oh, ecco! Cercavo proprio te! Bam! Non fa male! C'è di più? Labbra! Sono ossessionata! Ehi, Mace! Perché è così caro? Ok, niente di grave! Le mie lezioni di trucco daranno i loro frutti! Odio il trucco! Aspetta! No! Adoro il trucco! Tesoro, guarda! Uno stencil! Fantastico! I baffi da gatto saranno perfetti! Guarda che carina! Sei nei guai! Vieni, tesoro! Andiamo, dai! Dobbiamo proprio! Assolutamente sì! Naso! Oh, è quello che pensavo! Il primo step è fatto! Tesoro! Goldie! Potresti aiutarmi? L'attività secondaria di Goldie è essere una borsa da sogno! Stai cercando questa! Oh, mamma! Sei una vera maga! Aspetta! Cosa c'è dietro l'orecchio? Una tracolla! Divertiti! Puoi scommetterci! Ruggisci, gattina! Borsa, fatto! Ora ho bisogno di un nuovo outfit! Bene, bene! Dovrei inventare qualcosa! Ci sono! Ah-ah! È subdolo! Vai avanti! Figlia, stiamo arrivando! Mamma! Papà! Non lo farò più! Oh? La morte è rinviata! Vieni, tesoro! È l'ora dei lavoretti! Uh! È davvero calmante! Ecco qua! Ecco qua! Ecco, bambola! Gli outfit sono pronti! Guarda, tutti i bambini usano questo look! Trendy! Tesoro, cosa ne pensi? Non fa per me! Di classe! Uh! Come mai sono tutta bagnata? Ah? Cosa? Tesoro? Potresti stare attento per una volta! Oh-oh! Non era mia intenzione! Asciugo! Non mi stai aiutando! Sei nei guai! Non avevo notato che... Non hai notato nemmeno i miei nuovi capelli! Un altro giorno, un altro litigio! Oh, penso di avere un'opzione! Ecco qua! L'abito perfetto! Proprio quello che volevo! Ti ho regalato gli anni migliori della mia vita! Mamma! Papà! Cosa? Oh, tesoro! Sei una principessa! Grazie! Fatto! Assolutamente stupenda! Chi è? Non significa niente di buono! Come mai nessuno dà il benvenuto alla cara sorella? Tesoro, è passata una vita! Un abbraccio! Sono successe un sacco di cose! Vieni! Ehi! Ehi! Chi sei bello sconosciuto! Ehi, a volte fa così! Ignora la tesoro! Tesoro? Lo vedremo! Ciao, sono Catnop, tua nipote! Vuoi abbracciarmi? Sentiti libera di abbracciare la mia valigia e portarla su in camera mia! Com'è pesante! È strano! Cosa c'è in programma? Le orecchie, tesoro! Ho bisogno di un momento! Ho un'idea! Accomodati! Cosa sta succedendo? Tada! È il famoso mago Udini? Beh? Abbiamo solo iniziato! Cosa c'è qui? Ecco le orecchie da coniglio! In realtà è Hoppy! Signore, lascia stare le mie orecchie! È stato imbarazzante! Aspetta, non esce! Oh, orecchie! Aghiwaghi! Sei pazzo, fa male! Colpa mia, sistemerò tutto! I mostri sono così sensibili! Aspetta! È incredibile! Qual è il prossimo step? Lo spettacolo! Abracadabra e cancelleria! Bene, le orecchie le facciamo noi! Sì, questo è il piano fin dall'inizio! Quindi ricopri il cartone con la colla a caldo e attaccalo al cerchietto! Aggiungi colore! Qui! Bello! E poi? Poi gattina puoi giocare! Wow, una palla! Prevedibile! Oh, Mr. Delight! Così abile! Gentile! E con braccia forti! Vorrei poter affogare nel tuo braccio! Tesoro! È tornata! Wow, è perfetto! Che carini! Ma rovinerò tutto! Via l'eccesso! Lo so! Le catene saranno perfette! Giusto! La nostra stella! È così divertente! Tesoro, io e papà ti abbiamo preso qualcosa! Wow, nuove orecchie e acconciatura! Tutto secondo i piani! Super! Tesoro, le tue unghie non sono carine! Hai bisogno di una manicure? Hmm... Fa parte del piano! Vieni! Ti aiuterò! Solo un secondo! Questi sono gli elementi essenziali! Super! Da dove cominciamo? Prima di tutto ti puliremo, porcellina! Molto meglio! Andiamo avanti! Da qui ci penso io! Ehi! Ehi! Lo smalto! Cosa? Il colore perfetto! Sì, solo un secondo! Buonanotte! Delight! Delight! Questo colore ti sta benissimo! Bene! È fatta! Fantastico! Ma in realtà non è ancora tutto! Dove sono? Bambina cattiva! Lo porterò via! Cosa ne pensi di questo? Ahahahah! Dov'è? Oh! Tutti a scuola rimarranno scioccati! Certo, gattina! Oh mamma! Cosa stai facendo? Oh! Ma come? Non preoccuparti, sistemeremo tutto! C'è un'altra boccetta! Stai ferma mentre asciuga! Sì signora! Super! Puoi giocare gattina! Laser! Ha un debole per questo! Dai, rovina le unghie della mamma! C'ero quasi! Zuccherino, cosa stai facendo? L'hai sbavato! E anche peggio di prima! Oh! E quello sarebbe trendy? No! Serve un ritocco! Oh! I bambini! Tale madre, tale figlia! Va tutto bene! Sistemerò la cosa! Attaccherò gli artigli direttamente ai guanti! Sembrerà Beyoncé! Quindi? Non sono un genio? Vuoi baciarmi, vero? Mia figlia ne sarà ossessionata! Maledizione! Guarda gli artigli! Wow! Perfetti! Allora festeggiamo! Due piccioni con una fava! Qual è il prossimo step? Oh giusto! Gli orecchini! Compito perfetto per me! Sono la gioielliera dell'anno per un motivo! Mamma! Super! Oh papà! Possiamo andare a prendere un gelato! Stavo proprio per dirlo! Sì, grazie! Andiamo! Ordinerò la roba! Wow! Che velocità! Lascerò una buona mancia! Cominciamo con la lenza! Tagliamo e infiliamo perline dorate! Farò un pasticcio con i tuoi gioielli, tesoro! Adorabile! Fissiamo! Ecco qua! Ehi, cosa? No, 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 no! Sono nei guai! Di brutto! Tesoro, siamo a casa! Mamma, cosa sta succedendo? Qualcosa nuva? Tutto, vedi? È un disastro! Oh, non è un grosso problema! Guarda! Sorpresa! Papà, questi erano il mio sogno! Tesoro, sei un miracolo! Siamo una vera squadra! Ti amo! E io? Addio! Oh? Un altro punto fatto! Ora il ciondolo! Quello vecchio non va bene! Oh! Il mio ciondolo! Tesoro, non piangere! Tranquillo, papà può comprarne uno nuovo! Oh, non è molto! Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno! Delinea il ciondolo sulla gomma piuma e ritaglialo! Fin qui tutto bene! Avanti! Aggiungiamo una catenina! Giusto! Ti nomino la regina della notte! Dieci su dieci! Se n'è andata? Via libera! Finalmente un'altra matita! È l'ora del braccialetto! No, no, la Chiara! Braccialetto! Chiara! Braccialetto! Chiara! Chiara! Oh! Combatti! Difenditi! Pericolo! Che ne dici di questo? Mancato! Oh! Tiara! Te l'avevo detto! Cosa? Ok! Come ne facciamo una? Oh, Mr. Delight! Mi piace così tanto! Tesoro, ho preso il cartone per la Chiara! Sono stufa di tutto questo! Sarà una bomba! Oh, sorella! Hai proprio ragione! Cosa? La mia faccia! Sai, sei davvero carina! Santo cielo! Ehi, Mr. Delight! L'ho alzato di livello! Dai un'occhiata! Miss Delight va più giovane e carina! Devo andare da qualche parte! Ciao! Oh, piccola Renna! Vieni qui! È pazza! Dove mi nascondo? Tac, tac! Chi è? Il tuo destino! Il mio destino! Miss e Mr. Delight! Giurate di amarvi per sempre! Sì, lo vogliamo! Possiamo sbrigarci? Lo vuoi anche tu, Miss Delight! Lo voglio! Anch'io! Se qualcuno si oppone a questo matrimonio... Cosa? Ma è proprio così la formula! Adesso starai zitta! Meglio così! Chi prenderà il bouquet della sposa? Aiuto! Sono criminali! Non si preoccupi, signorina! Sto per... Oh, non ce la faccio! Devo fare tutto da sola! Questa è la nostra nuova casa! Ti piace, tesoro? Sono così felice! Sbrigati! Benvenuta a casa, amore mio! Oh, è tutto per me! Tutti qui i miei regali? Dai, girati, tesoro! Wow! Questa è la mia taglia! Ho sempre voluto essere Wolverine! Prendi! Non è abbastanza per te? Oh, cos'è? Sono io? Bello! Ma qualcosa non va, amore mio! Oh, sì! L'artiglio è nel posto sbagliato! Che gentil'uomo! Quindi la testa era più o meno di quelle dimensioni? Lo scriverò! Capelli gialli, occhi sporgenti! Un sorriso spaventoso! Non capisco! Facciamo uno schizzo composito! Descrivi di nuovo i suoi occhi? Da paura! Ah, capisco! Qualcosa come questo? Huggy, vieni qui! Sai cos'è? Lo so! È solo un'assurdità! Oh, ragazzi! Potete dirmi chi è questo? Non esiste niente del genere! Ha questo aspetto? Ma di così! È una mazza! Capisco! Ricominciamo! Cosa abbiamo qui? Non quello! Non questo! Oh! Questo mi ricorda qualcuno! Ah, io non ho fatto nulla! Forse è un problema che tu non faccia nulla! Ehi voi! Smettetela di litigare! Ho quasi finito! Certo! Lo sapevo! Andiamo, Huggy! Ed ecco il tuo artiglio! Non credo che gli artigli siano sufficienti! E la mia mazza? Cosa? La mia? Siamo pronti? Facciamo saltare tutto in aria! È così divertente! Sono d'accordo! Sbarazziamoci di tutte le cianfrusaglie del matrimonio! Che cos'è? Un sacco di divertimento! Da paura! Oh, scusa! Mi sono lasciata trasportare! La mia testa! La testa di mia moglie è di nuovo bella e pulita! Ma non è affatto come l'originale! Che sta per te, tesoro? Una foto del nostro primo delitto! Che dolce! Appendiamola! Stiamo cercando questi pericolosi criminali! Ma cos'è? Huggy! Non sono un apparecchio! Guarda, Katnepo ha fissato tutti i volantini! Idiota! Devono andare sulla strada! Oh, mi dispiace, Capo! Mettili dappertutto! Capito! Dappertutto! Da-per-tutto! Da-per-tutto! Continua a lavorare! Che succede? Ho trematutto! Ricomponiti! Allora, cosa abbiamo qui? Non capisco da dove provenga il rumore! Tesoro, è successo qualcosa? Ho solo un po' di fame! Ordineremo la consegna a domicilio! Cosa desideri? Ah, ma io vorrei... Ok! Oh, e un'insalata e una bibita dietetica! Capito? Fatto! E non dimenticare il dessert! Sei sicura di farcela? Oh, è così pesante! Ha un banchetto di nozze! Oh, ha detto matrimonio! Forse lui lo sa! Ma certo, andiamo! La mia schiena! Fermi! Polizia! Aggie, mostraglielo! Non quello! Il volantino! Hai visto questa coppia? Oh, giusto! Oh, quante scatole! Guardate, agenti! Ha ordinato così tante cose che la mia schiena non ce la fa più! Non è un reato! Shhh! Ho un piano! La mia pazzerella! Oh, ecco il fattorino! Consegna chicche senza fregatura e al tuo servizio! Ah, sbregati! Muoio di fame! Tutto va secondo i piani! Ai! Non uccidermi! Ti prego! Sono troppo giovane! Ehi! E la mancia! Meglio così! Cos'è questo suono? Mmm! Delizioso! Tesoro! Non avere fretta! Un altro pezzo! Ecco! Il tuo stomaco deve essere pieno! Ops! Scusa, tesoro! Mi ho lasciata un po' anche per te! Cosa? Beh, grazie! È molto gentile da parte tua! Credo sia ora di fare un testo di gravidanza! Beh, forse hai ragione! Allora, cosa dici? Tesoro! Allora! Sorpresa! Avremo un piccolo Delight! Potrei fare i salti di gioia! Che tesoro! Catturerò il momento! Cosa? Sta ballando adesso? Non è possibile! Cutnap! Ha catturato Delight! Ha lottato duro! Ma l'ho preso! Huggy! Chi è quello? Posso andare? Cosa? Non è il signor Delight! Mentre tu fai lo scemo, lui si prende gioco di noi! Capo! Un'altra possibilità! Lo prenderò per te! Amore mio, ti ho portato una coperta! È così! Cari! Non piangere, amore mio! Ecco le tue matite colorate preferite! Possiamo decorare il tuo pancino! Facciamo un gioco! Ma sei impazzito! Ti faccio vedere io un gioco! Non è necessario! Prendi! Fermo! Non muoverti! Cosa? E' andata! Mi hai quasi ucciso! Ops! Come ti senti? Sento le contrazioni! Respira! Andrà tutto bene! Dobbiamo andare in ospedale! Andiamo! Dottor Dog Day! Siamo qui per vederla! Respira! Respira! Cosa abbiamo qui? Ah! Un bambino birichino! È un maschio e una femmina! Interessante! Non ho mai visto nulla di simile prima d'ora! Cosa ne pensate? Neanche noi lo sappiamo! Secondo te, chi c'è nella pancia di Miss Delight? Diccelo nei commenti! Ehi! Noi stiamo aspettando! Bene! Diamo il via al gender party! Maschio o femmina? Chi sarà? State per avere... Una matita! È meraviglioso! Certo! Oh! Credo che stia iniziato! Stai iniziando? Oh! Wow! Che sensibilità! Andiamo, mamma! Sono così nervosa! Oh! Dove sono tutti? Ricomponiti, Mr. Delight! Ehi, papà! Congratulazioni! Hai una matita! Guardala! Sshh! Tesoro! Chi abbiamo qui? Forse questo giocattolo ti tirerà sul morale! È adorabile! Oh! Non riesco a trattenere le lacrime! Come hai fatto, Huggy? Saranno armati! Ma tutto bene, ragazzone! Gli daremo una lezione! Mi fido di voi! Come dovresti! Huggy? Lavoriamo insieme! Questa volta non ci scapperanno! Sei a casa, tesoro! Questo è il nostro salotto! E questa è la mia mazza! La cosa più importante! Tutti i nostri ricordi! Questo è il nostro album di famiglia! Oh! È stato tanto tempo fa! Ed ecco Cutnap! Oh! Dobbiamo inserire le nuove foto! Tesoro! Dai da mangiare al piccolo! Nessun problema! Ecco! Guarda qui! Vuoi sbrigarmi? Sì! Stavo preparando il latte artificiale! Ecco a te, ragazzo! Oh! Ce l'ho fatta! Ahem! In realtà ho fame anch'io! Lo sapevo! Un frullato per la mamma! Grazie, tesoro! Sei il migliore! Buon appetito! Amore mio! Non sono io! Sei sicura? È il nostro piccolo! Oh sì! Cambio pannolino urgente! Perché usare le mani se puoi usare il tuo fascino? Oh! Accidenti! Tesoro! Sbarazzatene! Certo! Dai! Non piangere, tesoro! Ti aiuterò a dormire! Non è d'aiuto! Ninna nanna! Ok! Forse ci piacciono le stesse canzoni! Tesoro, spegni! Si è addormentato! È proprio come me! Che notizia meravigliosa! Ma non dormire! Che c'è, tesoro? Il nostro piccolo ha bisogno di una culla! Beh, ci proverò! Fermi! Non muovete! Polizia! Volevate nascondervi, eh? Non pensateci nemmeno! Ah, chi smettila! Beh, in pratica, siete in arresto! Non vi lascio passare! Da qua! Ciao, ciao! Tesoro! Dammi la matita, Delight! Mai! È il mio bambino! Ridammelo! Peccata! È finita! Ups! Stai calma! Ridammi il mio bambino! Calmati! Non uccidermi! Credo di essere riuscito a scappare! Oh, idea! Tira fuori gli artigli e ringhia! Prova! Puoi tenerlo per un secondo? Oh, arrivano! Non importa! Dammi il mio bambino! Cut it up! Perché l'hai preso? Non l'ho preso io! No, tu! Stai giù! Io me ne vado! Uno, due, tre, quattro, cinque! Scappate! Wow! Ma dove sono? Muoviti! La mia testa! Sta arrivando! Al riparo! Pensate di poter scappare? Vi piacerebbe? Da quale casa hai inizio? Questa! No, risparmio la mia casa! Prendi questo! È così inquietante! Sta per distruggere la mia casa! Aiuto! Ecco, non puoi scappare ora, vero? Mi si sta spaccando la testa! Ehi, Abby! Oddio! Sei fregata! Ma se mi aspetta ora? Beh, verrai con me! Non mi stupisce, sai? Congratulazioni! È il mio primo pezzo della collezione! Cavolo, sono nei guai fino al collo! Come faccio a uscire da qui? C'è abbastanza spazio per tutti! Scusa, ma devo andare! Cutnap, che ci fai qui? La casa è mia! Zitto! The Light potrebbe essere vicino! Non riesco a vederla! La casa accanto è più solida di questa! È deciso! Mi nascondo qui! Ehi, perché sei qui? Huggy, ti faccio compagnia! Ma perché siete tutti qui? Questa costruzione è davvero inconsistente! Oh, che noia! Ne ho abbastanza! Me ne vado! Non resterò qui da sola! Cutnap! Scordatelo! C'è troppo poco spazio! In questo caso te ne vai da casa mia! No, io resto e tu te ne vai! Ai, smettetela! Ups! È lei! Mr. Light! Huggy, sta arrivando! Nascondetevi! Dove diavolo siete? C'è qualcuno qui? Nessuno? È qui? Oh no! No, no, no! Quale sarà la prima casa? Decido io! Resporgami! Questa? Cosa? No! C'è un modo veloce per abbattere la casa! Oh, sì! Fatto! Vediamo chi si nasconde sotto i pazzi! Stramo! Non c'è nessuno! Ora basta! Mi avete fatto arrabbiare! Accidenti! Ah! Siamo fregati! Ora mi serve la dinamite! Favoloso! La casa cadrà in mille pezzi! Non esiste! Niente fuoco! Bam! Cosa? Un altro fallimento! Non importa! Ho un piano di riserva! Non avete idea di cosa state per affrontare? Oddio! Scopriremo chi di voi soffre il solletico! Accidenti! Attenzione! Ehi là! Chi si nasconde qui? Ah 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 ah! Mi fa il solletico! Piantala! Soffro molto il solletico! Ah ah ah! Un altro! Per favore no! Non qui! Poppy! Ma dove sono? Divertitevi! Torno subito! Delight se n'è andata! Una richiesta di aiuto sarebbe gradita! Oh! Ce l'ho fatta! Un'altra nuvola! E un'altra ancora! Che bello! Nessuno? È la nostra occasione! Corri! Aspetta! Ho un'idea! Cosa? Adesso? Voglio dire! Dovremmo andarcene! Però in fretta! Ma che fai? Siamo a corto di tempo! Ta-dan! Un ritaglio di cartone! Oh grazie! Tratterrà Miss Delight per un momento! Ora corri! Davvero? Ah ah! Beccata! Cosa? Accidenti! È di cartone! Sono uno zimbello per loro! Ha funzionato! Ce l'abbiamo fatta! È sempre nascondino! Ma a livello successivo! A quanto pare dovremmo nasconderci meglio! A dire il vero ti vedo abbastanza bene! Ai! Tiro giù la scatola così possiamo nasconderci! È così che si fa! Ma non riesco! Non sono abbastanza forte! Ti aiuto io! Possiamo farcela insieme! Avvicinati! Oh è un flop! E se usassimo il pugno di Mario? Oh non funziona nella vita reale! Miss Delight è dietro l'angolo! Cosa facciamo? Per favore premi su mi piace così possiamo scappare da Delight! Più like! Sta arrivando! Per favore! Aiutaci ad uscire! Guarda! È la nostra via d'uscita! Oh sì! Evviva! Abbiamo un posto dove nasconderci! Questa è la mia scatola! È mia! Prendine un'altra! No! L'avevo addocchiata prima io! Lasciala andare! Non lo farò! Oh davvero? Allora dormi! È stato facile! Sono fuori dai guai! Vediamo dov'è Miss Delight! È vicina! Oh! Dog Day sta ancora dormendo! Devo aiutarla! Non posso abbandonarti così! Stai ferma! Molto meglio! Vai nella scatola! Ci sono un sacco di scatole! Quale scelgo per prima? Quella alta! Allora la distruggo! Oh no! Oh sì! Di nuovo! Smettila! Mi sto divertendo un mondo che si nasconde qui! Per me è finita! Aspetta un attimo! Sento russare! Un messaggio! I miei cari amici sono in pericolo! Sto venendo a salvarvi! Qualcuno sta dormendo profondamente! Vediamo chi è! Sì! 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 Cosa faccio? Svegliati! Dog Day non è un buon momento per un pisolino! Sveglio io! Forza! Oh! Che musica! Oh no! Non questa canzone! Non posso fermarmi! Da quanto pare ha funzionato! Buongiorno ragazzi! Ops! Eila! Per favore non ora! Prese! Non è il mio giorno fortunato! Un altro pezzo per la mia collezione! Cosa succede ora? Io ci provo! Devo uscire! Ops! Mi ha vista! Cerchi di scappare! In questo caso diventerete tutti dei peluche! No! 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 Non potete più scappare adesso! Vero? Devo scappare per salvarmi la vita! Adesso! Non funziona! Non posso nascondermi nelle scatole! Cosa posso fare? C'è solo una via d'uscita! Mi dispiace Topolino! Non c'è altro modo! Ma devo farlo! Dove ti nascondi, Micio Micio? Ti ha trovato! Perché sei così tremolante? qui ci sarà una porta! C'è qualcuno in casa? Cosa? Un topo? Li odio! I topi hanno un modo tutto loro di rovinare le cose! Ora sono furiosa! Un'ultima scatola! E' davvero finita! Hoppy! Dog Day! Ma tutto bene! Sono qui per salvarvi! E chi salva me? Oh, dimenticavo! Ho un regalo per voi! Wow! Mi ha baciato! Cos'è questo posto atroce? C'è Sophie! Fermi! Questo è per voi! Ognuno di voi avrà una casetta! Io vado a nanna! Buone notti! Se n'è ondata! Quindi questa è la mia casa! Cos'è questo odore? Che schifo! La casa è una discarica! Spostati! Questa casa mi piace! Ha solo bisogno di una pulizia di primavera! Per cominciare mi sbarazzo delle ragnatele! Ah cavolo, quanta polvere! Che schifo! Disgustoso! Ops! Bene! Pulirò lo slime velocemente! E lo userò per poter raccogliere tutta la spazzatura! Funziona! Ce l'ho fatta! C'è un sacco pieno di spazzatura! Ehi là! Ehi! Sono pieno e in forze! Mi libererò della spazzatura in un attimo! Perfetto! Ops! Mi ha sfuggito! È stato facile! Potrei anche portare fuori il tuo sacchetto! Sei gentile! Io vado! Io vado! Oppi! Posso rilassarmi un po'? Ehi, Oppi! Ma che c'è? Guarda qui! La spazzatura è uscita tutta! Come facciamo adesso? Che pulisce! Oh, è imbarazzante! Ci penso io! Lo spero! Oh, mio Dio! La mia energia mi ha abbandonato! La batteria è scarica! Che faccio? Ragazzi, premete su mi piace per aiutarmi a ricaricare la batteria! Oh! Sì! Altri like! Wow! Ho un soffiatore! Grazie! Lo provo subito! È perfetto! Mettiamoci al lavoro!